mi chiamo luca marchini e sono chef proprietario del ristorante l'herba del re si trova in centro storico a modena il mio concetto di cucina è un concetto legato principalmente a un percorso percorso di riflessioni e un percorso dato anche appunto dall'esperienza è ovvio tutto che deve partire da una passione la passione di fare questo lavoro passione di cucinare la passione appunto di collaborare con altra gente la posizione di avere appunto dei clienti da poter con loro fare ristorazione è ovvio che il tutto porta un'espressione un'espressione che si vede sui piatti si sente si percepisce al palato il tutto porta a vedere che esistono dei momenti di provocazione ma di provocazione semplicemente legati a un qualcosa che è già conosciuto riconoscibile e che potrebbe essere visto in un'ottica decisamente moderna senza modificare in modo eccessivo è ovvio che lo studio uno studio sia legato appunto alla conoscenza che a quello culturale è la base di tutto quanto noi dobbiamo assolutamente informarci su quello che stiamo facendo di prodotti per quanto riguarda i macchinari per quanto riguarda tutta l'attrezzatura appunto che noi andiamo a utilizzare un concetto veramente molto importante quello della collaborazione collaborazione che può avvenire fra me e i miei ragazzi in cucina e fra me e i miei ragazzi in sala tutto questo ovviamente porta a una crescita una crescita che in questi ultimi dieci anni perché il ristorante l'erba del rea ha fatto dieci anni e dubbiamente ha avuto nel tempo è indiscusso anche il concetto di ricerca che noi sempre più dobbiamo attuare e che nella nostra quotidianità facciamo una ricerca dei prodotti una ricerca sicuramente anche delle persone che collaborano con noi ma anche una ricerca delle attrezzature non possiamo pensare di portare avanti una cucina di questo livello senza appunto avere studiato in quale modo potere effettivamente fare e produrre le nostre ricette l'attrezzatura è importantissima hot mix pro è sicuramente un elemento basilare perché ci permette di lavorare con coscienza e in modo chiaro tutto quello che noi vogliamo fare applicando delle ricette nitide delle ricette che sono ovviamente infallibili nel momento in cui le abbiamo codificate la possibilità di avere una scheda all'interno dell'out mix pro e poterla utilizzare semplicemente digitando la tipologia di ricetta e poi indifferentemente da chi l'ha fatto e da chi effettivamente conosce o può conoscere la ricetta applicarla all'interno appunto dei prodotti che noi inseriamo dentro le caratteristiche dell'out mix pro sono veramente tante ad esempio fare una crema liscissima di mandorle bisogna applicare il massimo della potenza e 12.500 giri al minuto sono veramente importanti e ti permettono di risolvere tutte le problematiche del caso non solo si può cambiare la temperatura decidendo da un grado all'altro e aumentando o riducendo questo permette all'otto mix pro di arrivare la temperatura prescelta indifferentemente della temperatura iniziale dei prodotti che abbiamo inserito perciò una precisione particolare che non fa altro che migliorare il nostro lavoro rendendolo standardizzato nell'ottica di una produzione ovviamente con tutto il nostro amore tutta la nostra passione che possiamo inserire all'interno